Superbonus 110%, bonus facciate, bonus ristrutturazione, bonus termico, bonus sismico. Sono tanti gli strumenti che il Governo mette a disposizione per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a vantaggio della sicurezza e dell'ambiente. Ma magari non sai ancora come orientarti bene tra normativa e adempimenti tecnici. Proviamo a fare un po' di chiarezza. Come? Attraverso un incontro pubblico aperto proprio a tutti, in cui esperti di settore spiegheranno in maniera semplice e comprensibile tutte le possibilità dei nuovi decreti a partire dal 110%. È un primo passo importante creare una rete attiva nei temi green, che possa aiutare i cittadini, i tecnici ed anche le imprese verso scelte consapevoli. Oggi siamo cinque comuni, Colli al Metauro, Sant'Ippolito, Pergola, San Costanzo e Fano, ma tante altre amministrazioni e tanti altri amministratori velocemente stanno aderendo a questo nuovo progetto spontaneo. Quando? L'incontro sarà martedì 27 ottobre alle 17.30, dove? Saremo in diretta streaming. Potrai seguire la diretta sulle pagine Facebook dei comuni di Colli al Metauro, Sant'Ippolito, Pergola, San Costanzo e Mondolfo, e sul canale YouTube dei comuni di Fano, dove potrai comodamente rivedere la registrazione. Hai delle domande sul 110% e sulle detrazioni? Non ti preoccupare, contatta il tuo comune attraverso la pagina Facebook, il sito o i tuoi amministratori e inviale prima dell'evento. Ma ricorda, potrai fare delle domande anche durante l'evento. Le potrai scrivere nelle pagine social dei comuni partecipanti oppure nella pagina YouTube del comune di Fano, dove troverai la diretta. Tutte le domande saranno lette durante la seconda parte dell'incontro. Quindi ricorda, martedì 27 ottobre alle ore 17.30. Ti aspettiamo!